L'appuntamento è per domenica prossima, l'11 novembre, quando i romani saranno chiamati alle urne per il referendum consultivo sul futuro del trasporto pubblico locale. In altre parole, dovranno esprimersi sul destino dell'Atac, l'azienda municipalizzata che rischia seriamente il fallimento, malgrado l'ultimo bilancio, relativo al primo semestre del 2018, dichiari un utile da 5 milioni. Briciola è tuttavia in confronto al debito da 1 miliardo e 300 milioni per ora congelato in seguito a una procedura di concordato. Ci sono poi problemi cronici come l'età media degli autobus, 12 anni, ricordiamo tutti i casi di cronaca dell'ultimo anno quando almeno 29 bus hanno preso fuoco in pieno servizio in mezzo alla strada con tanto di passeggeri a bordo. Senza dimenticare i 13 mila dipendenti con un tasso di assenteismo vicino al 12%. Domenica i romani dovranno dunque esprimersi su tutto questo rispondendo a due quesiti. Il primo chiede se si è favorevoli alla possibilità che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico mediante gare pubbliche a una pluralità di gestori anche in concorrenza tra loro. Il secondo riguarda invece i servizi non di linea in ambito locale, ovvero i vari car sharing. Il quorum è fissato al 33%. Favorevoli al referendum sono i radicali, lo hanno richiesto loro, il PD e Forza Italia, contrari invece Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia. Curioso il fatto che il Campidoglio abbia selezionato come scrutatori centinaia di autisti dell'Atac. La notizia è stata data nei giorni scorsi da alcuni quotidiani romani e confermata dalla prefettura della Capitale, mentre il comitato promotore del referendum definisce la scelta del tutto irragionevole.